ciao a tutti altro video di Resident Evil per Wii Resident Evil 4 ho trovato un'alternativa al Joypad della Wii al Wii come si chiama e ho deciso che cavolo ah però devo solo ok eeeh acaa cavolo acaa 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 c'è il problema che questi c'è non vogliono tutti fare secco adesso è morto devo un attimo ambientare per me devo un attimo acaa 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 con i nuovi con le nuove e diciamo così porca c'è miseria fra un po' me li ritroverò qua e niente bastagli acaa direi che uuuuh siete sempre più uuuuh cattivi ma io c'ho ma ui cosa fai testa saltata ok acaa devo riprendere un'erpetta magica che non è Cannabis ma io in verità ho un joypad che i comandi sono divertiti acaa 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 io in verità tutto questo oro non so poi dove e lo dovrò andare a mettere bene e tu direi eh ma quanti sono allora adesso direi che io acaa 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 in verità in verità questi contadini pazzoidi diciamo così indemoniati badono verso un loro diciamo così capo questo è quello che mi ricordo un po' della storia ecco vanno a giocare a tombola vanno a fare il bingo acaa 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 città ma ha unico ha conferito il corpo di un'officio una cosa ha fatto l'arrivo che ci sono leon devi arrivare una torre e seguire il qui ho ho l'arrivo allora io in verità vabbè esaminare l'acqua è schifosamente sporca non la berrei mai e vabbè chi ti ha detto di berla no vabbè salute siamo messi bene io andrei a prendere tutte le cose che ho lasciato diciamo così forse per strada quando ho ammazzato vedo che qua non c'è più niente ma è possibile che è andato tutto perso andiamo a vedere se c'è qualcosa di qua forse io ero qua vediamo un po' il voletore rimane un odore piuttosto sgradevole non dà certo l'impressione di una bevanda rinfrescante non dà certo va bene qualcosa non abbiamo più proiettili per questo ma ci sta ok andiamo a vedere se si può mescolare ok mi ricordavo bene andiamo a vedere se vediamo se possiamo fare degli altri intrulli ok io ho una vaga idea che comunque questa gente torneranno giù dal campanile non dico adesso ma visto che c'è scritto spingere questo era un Resident Evil che era uno dei primi diciamo che non faceva più uso del baule per mettere la roba io non ho fatto quello in verità non ho mai scaricato quello per per la PS3 quindi non so se l'hanno fatto un po' meglio graficamente se è più pulito non lo so sicuramente se l'ha fatto un po' meglio 20 ore e insomma non è una cosa da poco ok aprire chissà cosa ci sarà un po' di strano un po' di soldi io questo Resident Evil 4 ce l'ho anche per la PS2 ma col fatto che non mi vanno sui giochi sulla PS3 purtroppo non lo posso giocare ecco tutto qua questa è una scala finta vediamo se ho visto tutto ma magari qualcosa mi sfuggirà e lascerò qualcosa qui ma qua non posso andare vabbè andiamo avanti tra l'altro non ho ancora trovato un salvataggio c'è due a poter salvare in verità eh qui c'è questo cadavere brusacchiato qua c'è un campanino andiamo a vedere qua non ho ancora fatto il primo salvataggio di sto gioco giusto da magari da ripartire magari qua no ordine di allarme vabbè ok andiamo avanti non ci fermiamo su questa roba qui se no non finiamo più allora non so se da lì si esce dalla città vabbè comunque prima allora cosa c'è là interessante dove ci vado ah ma qua non ci posso andare salgo da dove da dove posso salire là su vabbè intanto andiamo a vedere un po' cosa c'è qua magari ancora non mi fa andare è bloccato e non si apre c'è una specie di simbolo sulla porta va bene mi fido arrampicarsi va bene social ragazzi atletico allora io non ho ancora salvato vabbè dov'è la famosa freccia qui abbiamo già visto tutto direi che con questo video ci possiamo salutare qui non c'è assolutamente niente qua la freccia si dice di andare di qua qui abbiamo già visto non c'è nulla qui abbiamo già preso tutto ci vediamo alla prossima puntata video o parte o capitolo di residente del 4 per wii ciao ciao